Stava dicendo Luca perché la notizia è la stessa, cioè le agenzie battono una dichiarazione di Silvio Berlusconi nel vertice di centrodestra, avrebbe detto in riferimento a una collega del senatore Causino e la senatrice Rossi non so cosa possono averle promesso, non la sentivo da molto tempo, è imprevedibile, inaccettabile, non trova spiegazione. Quindi c'è il capitolo promesse, prego Luca.